Propone lo sciopero del voto votando scheda bianca o nulla o non andando a votare. È la posizione della lista pannella, illustrata oggi a Trieste. Il Parlamento è stato eletto per tre legislature con una legge anticostituzionale chiamata Porcellum, hanno spiegato Marco Gentili e Maurizio Turco, mentre la nuova legge elettorale, approvata poche settimane dal voto, il Rosatellum, impone agli elettori che decidono di votare solo il candidato al collegio uninominale e di dare parte del voto a liste e partiti che non vorrebbero votare. Anche per questo la lista pannella invita a non contribuire il 4 marzo con un voto valido alla consultazione elettorale.